Nulla a che fare. La voce interiore attraverso Roberta S. guida. Bentrovati. Le vostre risposte sono nascoste dalle vostre menti, pronte in ogni istante a parlarvi e a donarvi soluzioni efficaci per quanto riguarda la vostra ottusità, ma limitative per quanto riguarda il vostro essere. Potete in ogni istante scegliere chi essere e quale parte di voi seguire, dunque non chiedete a noi le risposte a quelle domande a cui già avete dato delle risposte. Noi non stiamo qui a ricordarvi quello che già sapete, quello che avete deciso. Tentiamo di darvi degli spunti di riflessione, di portarvi su una strada che non è fatta di quei fiori che conoscete, che immaginate ora, ma che è fatta di soluzioni fatte di luce e dunque diverse da quelle che fino adesso avete conosciuto. Le vostre menti sono abili a rinchiudersi in circuiti già programmati. Dovete far sì che quei circuiti vadano ad intraprendere strade diverse e che le vostre menti siano più ampie e riescono a guardare oltre. Non vi stiamo rimproverando di nulla, vi stiamo incitando ad essere chi siete, ad essere voi stessi, a prendere il dominio del vostro essere ed a smettere di essere chiusi in quelle limitazioni che vi sono state affibbiate da chi prima di voi ha avuto gli stessi limiti. È tempo che apriate le porte per tutto ciò che non conoscete. Dovete svegliarvi a quel mondo che vi appartiene già da tempo. Non possiamo dirvi di più, non possiamo darvi di più, perché le nostre parole non sono parole fatte per aiutare le vostre menti a capire, a comprendere, perché dovete fare certe cose perché invece non dovete farle, perché il senso del dovere è un qualcosa che vi appartiene, come la suola delle vostre scarpe, è limitata al tempo in cui voi siete qui non ha nulla a che fare con la verità divina del vostro essere. Continua.